A Mareza, l'uomo ha scelto il loro lito per caricare i ragazzi già venuti. Oggi vuole dedicare al Corpo Nazionale di Libia in Fuoco la versione originale del loro lito per ringraziarli del lavoro quotidiano che svolgono a servizio della nostra solidarietà. A Mareza, l'uomo ha scelto il loro lito per caricare i ragazzi già venuti. A Mareza, l'uomo ha scelto il loro lito per caricare i ragazzi già venuti. A Mareza, l'uomo ha scelto il loro lito per caricare i ragazzi già venuti. A Mareza, l'uomo ha scelto il loro lito per caricare i ragazzi già venuti. A Mareza, l'uomo ha scelto il loro lito per caricare i ragazzi già venuti. A Mareza, l'uomo ha scelto il loro lito per caricare i ragazzi già venuti.